Salgono a 24 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19. Ieri sera la Regione Puglia ha comunicato nuovi 5 casi ufficiali di positività al coronavirus. Due riguardano la provincia di Foggia, uno l'Abbat, uno in provincia di Bari ed uno in provincia di Lecce. Il caso leccese riguarda una donna novantenne di copertino che è stata ricoverata con riserva di prognosi nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Non si è aggravato ad oggi il numero dei decessi, che restano due entrambi nella provincia di Foggia. Migliorano le condizioni del paziente 1 in Puglia, risultato positivo al coronavirus, il 43enne di Torricella, rientrato dalla Lombardia e ricoverato all'ospedale Moscati di Taranto dal 26 febbraio scorso. Ma si aggraverebbero le condizioni di sua moglie, risultata contagiata così come il fratello dell'uomo. La donna, che era in quarantena fiduciaria nella sua abitazione, avrebbe avuto un'insufficienza respiratoria che sarebbe stata così ricoverata nel reparto malattie infettive del nosocomio ionico. Nel frattempo la procura di Bari ha aperto un'indagine per procurato allarme con riferimento ad alcune fake news diffuse su WhatsApp e su un sito online su falsi casi di coronavirus. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, è al momento a carico di ignoti. Nel fascicolo sono confluite segnalazioni fatte da cittadini alla Polizia Postale, ai Carabinieri di Modugno e alla Questura di Bari, tre i casi sui quali saranno avviati accertamenti.